No, che succede? Oddio Massimo, Massimo! Aiutate Massimo! Che è successo? Allora, stiamo cercando di capire, Massimo l'avete visto ha avuto un mancamento, siamo tutti umani, il viaggio a Mosca, una serata complicata, può succedere. Naturalmente ci sono delle persone lì con lui che ci daranno notizie a breve su come vanno le cose, io spero che si ricolleghi molto presto con noi, nel frattempo cerchiamo di andare avanti perché è importante secondo me rimettere un attimo i piedi nella realtà. E quello che è successo è che questa signora ci ha portato a spasso in una realtà parallela, esattamente la realtà parallela che viene raccontata ogni santo giorno a quel popolo russo di cui lei si freggia di rappresentare con Putin. A proposito della democrazia, aggiungo solo una piccola cosa perché mi sta molto a cuore non ho amato per niente quella risata parlando delle democrazie occidentali e di quello che noi occidentali consideriamo democrazia. Ebbene, la verità è che in questo paese se il popolo non è d'accordo con il potere, con chi governa, se gli oppositori politici non sono d'accordo con chi governa, se una giornalista non è d'accordo con chi governa, non finisce ammazzata, non finisce in galera o non finisce silenziato, come accade a chiunque nel popolo russo si permetta di essere in disaccordo con il capo supremo, compresi i suoi più stretti collaboratori. Vi suggerisco la lettura di Limes di questa settimana che racconta molto bene cosa accade anche a personaggi vicinissimi a Putin che hanno fatto molto bene il loro compito diciamo di cani da guardia, appena si permettono di mettere in discussione qualcosa che Vladimir Putin decide, sceglie o fa. Questa è la differenza tra le democrazie imperfette, quanto sono imperfette le nostre democrazie, ma democrazie. Allora, vedo che Massimo è in piedi, sta bene, quindi sono felice. Adesso fra un pochino ci ricolleghiamo con lui, appena mi dicono che è nelle condizioni di parlare. Grazie.